Siamo qui con Marzia, hai voglia di dirci dove si trova il tuo centro? Ciao sono Marzia, il mio centro è a Belfiore in provincia di Verona. In che cosa è specializzato il tuo istituto Marzia? Il nostro istituto è specializzato nella tecnologia laser. Grazie al protocollo Beauty Premier, quali sono i punti di forza che hai messo in pratica nel tuo istituto? Ho cambiato il rapporto con la mia cliente e sono diventata più guida. Da questo corso ho imparato a utilizzare meglio la scheda cliente, quindi da domani la metterò in pratica e cercherò di chiedere a fare più domande ai clienti per capire meglio qual è il loro obiettivo, cercare di capire meglio cosa vogliono. Ok, quindi diciamo che questo è il tassello numero uno che da domani riuscirai a prendere in mano? Sì, ok. Grazie a tutti.